La Città di Roccella Da un giorno all'altro scomparve dalla faccia della terra. La Città rimase in mano a sette nuovi criminali, i più pericolosi fuori legge della storia dell'umanità. Il piano è semplice. Tagga la perra! Nonica! Ogni giorno, alle cinque in punto, la guardia e l'impiegato escono dalla banca. La Chiattona gli porta due caffè. E loro lasciano la porta aperta per tre minuti e due secondi. Noi distrarremo la Chiattona. Chiattona, Chiattona. E i caffè saranno adorati. È tutto chiaro? Sì! 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 Questo è ancora la mia città! Qualcuno ci ha tradito. Io so dov'è il bottino. Sette piccoli sospetti. Il nuovo libro di Christian Frascella. Al cinema in libreria. Grazie a tutti!